Sono giorni frenetici di incontri per il nuovo giarre del presidente Giulio Nirelli che ha annunciato di voler allestire una squadra competitiva per il prossimo campionato. Ma adesso si scontra con un mercato difficile e complicato perché non è mai semplice trovare giocatori buoni a costi contenuti e che possano essere funzionali al progetto tecnico. Gaetano Mirto sin dal giorno dopo del suo arrivo ha fatto richieste precise e Giulio Nirelli insieme ad Alessandro Curcuruto sono impegnati su due fronti. Il mercato in entrata in sé per sé è quello delle conferme. Il gruppo nell'ultima stagione è stato solido e unito ma dopo il settimo posto tanti singoli hanno mercato. Nei prossimi giorni Nirelli e Curcuruto incontreranno ad esempio Daniele Compagno, il centrocampista palermitano agli occhi addosso di tutta la Sicilia calcistica, dopo una stagione al dir poco strepitosa, culminata con ben dieci reti messe a segno. Considerato anche il fatto che Compagno non è originario del Catanese, trattenerlo non sarà semplice anche se giarre per lui resta una delle priorità. La conferma di Compagno potrebbe rappresentare un tassello importante nella costruzione del nuovo organico da mettere a disposizione di Gaetano Mirto.